Sicuramente quello... scusate perché ho perso la voce in campagna elettorale, ormai ho degli abbassamenti tremendo. Va bene, va bene, non ci preoccupi, volgo. No, ci sono tante cose che può fare un'amministrazione che deve mettere in campo subito, perché io penso che il problema di quelle persone, oltre a un problema legato alla sicurezza, sia il fatto che per troppo tempo delle amministrazioni abbiano preferito investire, magari dando soldi a cooperative e amici, invece che andare a mettere a posto, lì ci sono problemi di terrazzi, problemi di impianti non messi a posto, problemi di degrado, che è un degrado urbano che poi porta anche alla delinquenza, a tutto il resto e l'abbandono che c'è. La cosa che deve fare un sindaco immediatamente è quello di intervenire su questo versante. Poi c'è tutto quello della sicurezza che non è una percezione, c'è un problema di sicurezza e è nelle periferie principalmente, ora si è spostato anche nelle zone centrali delle città, però nelle periferie si sente tanto perché le forze dell'ordine, bisogna dirlo, non hanno le pattuglie, non hanno gli agenti per coprire il territorio. Allora, Librandi senta anche... E finiva essere abbandonato a quello delle periferie.